Oggi ci occupiamo dell'alveo del fiume che si trova ad Isca sullo Ionio. Grande successo stanno ottenendo i nostri reportage sulla situazione degli alvei dei fiumi che attraversano il nostro territorio e si trovano veramente in brutte condizioni, senza che nessuno interviene per eliminare il pericolo. Dopo sera San Bruno e Badolato Marina, oggi vi facciamo vedere come sono le condizioni dell'alveo del fiume che attraversa Isco sullo Ionio. Se dovesse piovere con intensità, sicuramente la spiaggia di Isca Marina sarà strapiena non di turisti ma di alberi, canne e sporcizi di tutte le qualità. Concludiamo il nostro servizio nell'attesa che qualcosa si muova e gli interessati intervengono al più presto per eliminare il pericolo. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!